Buon pomeriggio a tutti, sono Fabio Moioli, responsabile della Consulting and Services di Microsoft. Mi spiace non essere con voi questo pomeriggio a Padova, purtroppo ho avuto un impegno improvviso che non sono riuscito a gestire in altro modo e purtroppo ho dovuto declinare la mia presenza di persona e anche se io mi occupo quotidianamente di intelligenza artificiale, e quello è il mio lavoro, vendere e soprattutto eseguire progetti di intelligenza artificiale, mi rendo conto che la presenza umana di persona è tutt'altra cosa, quindi mi spiace veramente molto non essere con voi. Se fossi stato con voi, quello di cui avrei parlato, comunque di cui ho piacere di parlarvi ora, poi ci sentiremo al telefono, credo, è quello di cui vi occupo, quindi intelligenza artificiale, intelligenza artificiale che oggi permette in Cina a un modello chiamato Shao Ice, a un algoritmo, oltre ad avere conversazioni telefoniche con milioni di cinesi, di essere probabilmente la poetessa più seguita al mondo, avendo 660 milioni di persone che leggono quello che scrive, le poesie, libri, racconti. Oggi tutti voi potete inoltre scattare una fotografia con il vostro telefonino, scegliere uno dei tanti programmi che vi sono, e creare un quadro molto bello, scegliendo uno stile del vostro pittore preferito. E sempre oggi, in Olanda, con il Museo di Rembrandt, abbiamo mostrato ad un algoritmo un numero molto elevato di quadri di Rembrandt, e poi l'algoritmo, l'algoritmo usando una stampa 3D evoluta, ma quella è la cosa meno interessante, l'algoritmo ha creato un nuovo dipinto che i maggiori esperti al mondo di Rembrandt hanno ammesso avrebbero scambiato per un originale dell'autore, per un capolavoro di Rembrandt mai visto prima. Cosa sia successo col quadro? Non lo so, mi lo starete forse chiedendo anche voi. E oggi, in realtà, trovate su internet già molte musiche, devo dire veramente belle, composte dall'intelligenza artificiale. La stessa Xiao Aisa, in Cina, di cui ho parlato poco fa, compone canzoni, è una cantante, oltre a condurre varie trasmissioni televisive, eppure una trasmissione radiofonica, anzi, 16 trasmissioni radiofoniche in parallelo a un determinato orario della mattina. Quindi, pittura, musica, poesia, ma come siamo arrivati a tutto ciò? Ancora oggi, quando si parla di intelligenza artificiale, si pensa a un computer, capace di calcolare 200 milioni di mosse al secondo, che ha battuto il campione mondiale di scacchi. Quel computer si chiamava D-Blue, quel campione di scacchi si chiamava Kasparov, ma quell'anno era il 1997. Se ci pensate, era un computer tristorico rispetto a quello che c'è oggi. Di fatto, la crescita dell'intelligenza artificiale è iniziata solo negli ultimi anni, quando nel 2016, un algoritmo chiamato AlphaGo ha battuto l'essere umano, il campione mondiale di Go, in un gioco che è un triliardo di triliade, di triliarde, di volte più complesso, dagli scacchi. Ha un numero di possibili combinazioni sulla scacchiera del Go, superò l'aliato dell'universo. Quello che è stato fatto qua è stato insegnare all'algoritmo le regole del gioco. L'algoritmo ha giocato per tre ore contro se stesso e ha battuto il campione mondiale. Poco dopo, sempre nel 2016, l'intelligenza artificiale ha raggiunto l'apparietà uomo-macchina nel riconoscimento degli oggetti. L'anno dopo, negli test cosiddetti switchboard, quindi test che fanno le dattilografe, era agosto, il 20 agosto del 2017, un momento storico per l'intelligenza artificiale, è stata raggiunta l'anno scorso l'apparietà uomo-macchina nella capacità di rispondere alle domande generiche su dei test, cosiddetti Stanford's test, e quest'anno è stata raggiunta l'apparietà uomo-macchina nella traduzione del cinese, le lingue occidentali. Quindi potete usare questa tecnologia per leggere Sunshine, che è l'ultimo libro scritto da Shao Ice in Cina. Ma soprattutto potete usare questa tecnologia ovunque. È come l'elettricità, sarà usata ovunque. E avrei avuto oggi piacere di essere con voi, perché è uno dei mondi dove sarà usata di più, dove già oggi si inizia a usare di più, è quello delle smart cities, è quello delle smart construction, dei smart building, un mondo dove veramente c'è una quantità di dati enorme, che si sta producendo, si produrrà sempre più. Ogni ora vengono messi in produzione un milione di nuovi dispositivi IoT, che producono dati, sempre più connessi alle città, all'ambiente ovviamente fisico, ed è per quello che si sta andando verso un concetto molto forte di digital twin, cioè creare dei mondi virtuali che rappresentano i sensori, che mettono assieme lo spazio fisico delle città, dei building, con le persone che vi abitano, che vi lavorano, che si muovono. Quindi la tecnologia, lo spazio fisico e le persone, si possono creare sui nuovi mondi digital twin, che permettono di simulare al mondo virtuale quello che accade nel mondo fisico, talvolta di fare delle predizioni particolarmente efficaci, e di creare tutto quello insieme di nuovi paradigmi, che rientrano all'interno del mondo, delle smart cities, della smart construction, dove fra l'altro è molto bello vedere come anche i livelli fisici degli spazi vuoti, quindi l'energia, la maintenance, vengono molto spesso a essere arricchiti quando si prende in considerazione la vita delle persone, il comportamento reale delle persone, e quindi questa capacità dei dati di unire veramente il comportamento di tutti noi con il comportamento, in un certo senso, la vita delle città, dei building che abitiamo, in cui lavoriamo. Questo secondo me è e sarà veramente uno degli ambiti principali di applicazione dell'intelligenza artificiale, ed è per questo che sono qua oggi con voi, almeno in video. Grazie di nuovo, buon lavoro, a presto, spero avremo occasione di conoscerci anche di persona quanto prima.